Che siate già sportivi o che stiate per diventarlo, questo posto è per voi. Sono a Sella Nevea e per la prima volta proverò a fare il freeride. Sono in compagnia di una guida espertissima, Ennio Rizzotti. Buongiorno Ennio. Sella Nevea è un polo trasfrontaliero tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Si può sciare infatti su entrambi i versanti del Monte Canini. Meta prediletta per gli amanti del freeride, grazie ai tantissimi percorsi fuori pista e di tanti altri sport estremi come il parapendio e lo speedfly, questa località è nota per lo sci alpinismo. Ennio, quali sono le cose più importanti da sapere quando ci si approccia per la prima volta a questa disciplina? Innanzitutto il freeride, lo dice la parola stessa, è andare in ambiente innevato in totale libertà. Per cui seguire questi itinerari sci fuori pista sia in salita che in discesa, avendo una cognizione totale di quella che è la neve, ma soprattutto sapendo affrontare la neve proprio nelle sue molteplici situazioni. Quello che è importante è che il freeride comunque è sempre uno sci fuori pista e va affrontato con una buona condizione sciistica, ma soprattutto anche una buona condizione di sicurezza. Bisogna conoscere bene la nevologia, per cui conoscere la neve se ci sono delle condizioni di sicurezza. Con noi oggi c'è anche Enrico Carletto Mosetti, soprannominato il Mose, sta con noi da molti anni. Lui è guida alpina, ma quello che è più importante è un famoso freerider, ha fatto diverse discese anche a livello mondiale. Io di certo non sarò in grado di imitare le cose che farà Enrico. Enrico, che cosa ci farai vedere? Cercheremo di fare qualche bella sciata, qualche bella curva in neve fresca e vediamo. È il mio esordio sulla neve polverosa. Oltre ad avere uno sci dedicato, molto più largo dei tradizionali sci da discesa, che permette di galleggiare sulla neve fresca e a cui mi devo abituare, anche la posizione del corpo e il movimento vanno adeguati. Sono un po' intimorita, ma la presenza di ben due guide alpine come Enrico ed Enrico mi dà sicurezza. Il freeride si impara per gradi, ma anche una principiante come me può praticare questa disciplina, a patto che si faccia accompagnare da maestri o guide. Abbiamo una prestatura specifica, in particolar modo gli sci e poi uno zaino speciale. Enrico, che cos'è che mi hai messo alle spalle? Siccome sciiamo fuori pista e facciamo freeride, oltre all'attrezzatura sciistica, sci, scarponi che sono adeguati alla sciata fuori pista, abbiamo dell'attrezzatura di sicurezza. In primis Artva, pala e sonda, per cui siamo protetti con un dispositivo elettronico che in caso di travolgimento da valanga ci siamo a ritrovare. E poi abbiamo uno zaino, che è uno zaino che contiene un ABS, un airbag praticamente, che serve, nell'eventualità che dovessimo rimanere in valanga, ad aiutarci a farci galleggiare. Ecco, questo però non vuol dire che dobbiamo sentirci totalmente protetti. La cosa più importante rimane sempre sciare in condizioni di sicurezza, per cui se si valuta che il pendio è instabile, si cerca di andare altrove. Noto la passione e la gioia di chi pratica freeride, e questo mi invoglia a continuare. Sono certa, non sarà l'ultima volta in neve fresca a Sella Nevea. Se pensate che in un parco avventura ci si possa divertire solo l'estate, vi sbagliate, perché qui a Sella Nevea il parco avventura è aperto anche d'inverno, anche con la neve. Sono in compagnia di Ivano e Samuele che gestiscono questo parco avventura. Buongiorno Ivano, buongiorno Samuele. Ciao, buongiorno Maria. Che cos'è innanzitutto un parco avventura? Il parco avventura è un'attività che si fa intanto all'aria aperta, sugli alberi, ed è molto educativo perché si impara ad utilizzare l'imbragatura, si impara ad utilizzare i moschettoni e tutte quelle che sono le attrezzature per affrontare un percorso in montagna. Un po' di coraggio e si lancia. Possiamo andare. Esatto, partiamo. Quante difficoltà ci sono e quali percorsi ci sono? Ci sono ancora due percorsi per gli adulti, il percorso blu e il percorso rosso. Il percorso rosso è quello più difficile. Si arriva fino a 15 metri d'altezza, una tirolese molto lunga di quasi 70 metri. La mia emozionante giornata a se la neve è finita. Mi sono divertita davvero un mondo, ho provato delle cose nuove, ma adesso è il vostro turno. Siete pronti? A voi! A voi! Grazie.